Ok, bene ragazzi, l'incarico parla con Tarahara Croft, Corvina, Crocodè o Mister Mice bisogna parlare con tre personaggi questa sfida sicuramente potrà essere bagata, quindi non vi risulterà nella tabella prima che vi compaia potete andare a parlare con uno di questi personaggi a centrare un incarico col punto esclamativo poi tornate in lobby e la sfida vi compare, quindi potete svolgerla tranquillamente e vi conterà anche il personaggio con cui avete parlato in una partita precedente però finché non tornate in lobby non vedrete la missione adesso vi faccio vedere se il personaggio Lara Croft si trova qui a fortezza furtiva poi c'è Corvina che si trova qui poi c'è Tarahana che si trova qui poi c'è Coccodè che si trova qui e Mister Mice che si trova qui ragazzi quindi interagiamo con tre personaggi di questi qui e la missione è bella che completata bella bella ragazzoli